Kafka Vestiti Spesso, quando vedo vestiti con molte pieghe, gale e ornamenti che si posano bellamente sui bei corpi, penso che non si manterranno a lungo in quello stato, ma prenderanno pieghe che non si possono più rimediare stirando, e polvere che ingrossando nell'ornamento stesso non si potrà più allontanare, e che nessuno vorrà fare una così triste e ridicola figura mettendo ogni giorno, al mattino, lo stesso vestito prezioso per levarselo la sera. Eppure vedo delle ragazze, che sono belle e mostrano diversi muscoli provocanti, e piccole ossa, e la pelle tesa e masse di capelli sottili, che giorno per giorno pur compaiono in questa mascheratura naturale, posano sempre la stessa faccia nelle stesse palme delle mani, e la lasciano riapparire nello specchio. Solo qualche volta, a sera, quando tornano tardi da una festa, il viso appare loro consunto, gonfio, incolverato, visto da tutti ormai, e che non si può più portare.